Nel corso della rifinitura mattutina alcuni tifosi rosso-blu, una quarantina in tutto, hanno voluto far sentire il calore del tifo ma pure spronare i ragazzi di cappellacci chiamati all'esame fermana. Ecco le immagini dei tifosi che hanno offerto corrida a stadio come se si fosse davvero nel corso di una partita. Nel contempo i giocatori si stavano riscaldando sotto la pioggia battente del capoluogo. Il Campobasso chiede la svolta stagionale ai marchigiani della fermana, formazione assolutamente da rispettare e partita con propositi di alta classifica. Rispetto alle indicazioni fornite nell'amichevole del giovedì dobbiamo registrare un'inversione di tendenza di cappellacci. Stamane si è provata una difesa con i quattro under, vale a dire Gattari e Di Pasquale al centro, Sant'Angeli e Rao sulle fasce, più in generale un atteggiamento tattico che rimanda ancora al 4-3-3. Nel reparto mediano il bocciato di turno potrebbe essere Valentini con Bontà che è un serio candidato ad una maglietta dal primo minuto. Censori e Boldrini potrebbero essere gli altri due compagni del reparto nevralgico. In attacco si profila la prima panca per Alessandro, apparso in leggera flessione nelle ultime gare, ma potrebbe anche trattarsi soltanto di un fatto fisiologico. Confermato Bucchi supportato a destra da Fiore e a sinistra da Todino. Questi gli esperimenti ultimi ad opera del tecnico di Tortoreto e verosimilmente dovrebbe essere questo l'undici, antifermana. Pesante l'artiglieria a disposizione di Cappellacci che deve però registrare le non perfette condizioni fisiche di Aquino. Così come Dimas non sembra avere un bagaglio di ossigeno della durata di 90 minuti. Normale scrutare le caratteristiche degli avversari di turno che hanno in Daniele Degano un elemento di grande qualità ed esperienza, ma soprattutto dotato quando si tratta di tirare un calcio piazzato. Il Campobasso dovrà prestare attenzione ai falli dal limite dell'area di rigore, ma anche prima. Ricordiamo che a dicembre 2014 lo stesso Degano fece una doppietta al Campobasso calciando proprio due punizioni. Si trattava di un Civitanovese Campobasso. La partita riveste un significato particolare per la squadra rosso-blu in astinenza da punti da due settimane a questa parte. L'urgenza di alimentare la classifica si fa impellente e in questo preciso momento della stagione un successo sarebbe utilissimo per rasserenare l'ambiente e ricompattare i tifosi quali, ad ogni modo, il loro segnale stamane lo hanno dato. A partire dalle ore 15 la gara tra Campobasso e Fermana sarà diretta dal signor Santorelli di Salerno.